Serena Rossi Serena Rossi, Celebration e l'amore per Davide De Venuto Celebration, Serena Rossi tra Rai 1 e la storia con Davide De Venuto. . Partirà stasera il nuovo show del sabato di Rai 1, affidato all'inedita coppia formata da Serena Rossi e Neri Marcore, dal titolo Celebration che, com'è facile intendere, significa celebrazione. . Quattro puntate per i due attori, che verranno trasmesse dall'auditorium della Rai del Foro Italico di Roma, storica sede di Ti lascio una canzone e Ballando con le stelle. . Uno show che omaggerà, puntata dopo puntata, le leggende della musica internazionale, grazie all'ausilio di cantanti italiani di oggi. Una celebrazione vera e propria per la brava Serena Rossi, dunque promossa la prima serata su Rai 1 dopo la sua esperienza alla conduzione di Detto Fatto, dove ha sostituito Caterina Balivo per tre settimane a settembre, durante la sua assenza per maternità. . Celebrazione anche nella vita privata per l'attrice, legata sentimentalmente ormai da anni al collega Davide Devenuto, conosciuto sul set della Sop di Rai 3 e Un posto al sole, che in passato li ha visti entrambi i protagonisti. . E' sempre stato il volto del donnaiolo Andrea Pergolesi in un posto al sole Devenuto, a proposito del quale l'attrice, come si legge su Di Piuto, ha confessato, inizialmente non lo sopportava affatto. . Serena Rossi, la love story con Davide Devenuto e l'inizio di Celebration. . Sempre su Davide Devenuto, Serena Rossi ha poi ammesso di essere diventata sua amica e di aver scoperto di amarlo durante un viaggio in treno, precisando, siamo andati subito a vivere insieme. . . Grazie a lui Serena è anche diventata mamma, anche se le loro strade professionali ad un certo punto si sono divise perché lei ha lasciato la Sop per dedicarsi ad altri progetti, come la fiction che Dio ci aiuti e tale quale show, dove ha addirittura vinto. . . E da stasera, dunque, sarà la conduttrice di Celebration con Erie Marcoree, con il quale si cimenterà, nel corso delle varie puntate, in duetti canori, coreografie e divertenti siparietti, ovviamente sempre legati al mondo della musica. . . L'appuntamento di questa sera sarà dedicato ai grandi miti della musica pop, ossia Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga. . . Ospiti di Celebration saranno il vincitore del Festival di Sanremo 2017 Francesco Gabbani e i colleghi Noemi e Michele Bravi. . . Vedremo come il pubblico di Rai 1 accoglierà il nuovo show del sabato sera, che dovrà fare i conti con la guerrita concorrenza di Tussi Q e Valens, ancora una volta firmato Maria De Filippi e in onda su Canale 5 con Belen Rodriguez. . . . . .